Si è svolta a Castel di Sangro l'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico Campi Flegrei 2024 con la partecipazione del coinvolgimento delle regioni e province autonome. Siamo a Castel di Sangro dove si sta svolgendo l'esercitazione della protezione civile con uomini e mezzi in caso di emergenza per quanto riguarda i Campi Flegrei in Campania. Il comune di Castel di Sangro è stato individuato come punto di prima accoglienza per l'eventuale trasferimento della popolazione di Monte di Procida a Napoli in caso di emergenza vulcanica con iniziative tese alla simulazione di attivazione delle aree previste per l'accoglienza della popolazione. Intanto è una esercitazione che è svolta d'intesa con quello che si sta svolgendo nel teatro più importante che è quello dell'area vesuviana della città di Napoli e dei comuni dintorni. È una prova che ha lo scopo di mettere a punto quell'organizzazione che nell'eventualità dovrà accogliere gli eventuali sfollati. Qui abbiamo oggi la compartecipazione delle principali organizzazioni di protezione civile che hanno allestito le attrezzature, tutto quello che hanno nella loro disponibilità definendo anche quello che è il percorso che gli eventuali sfollati dovranno compiere dall'accoglienza quindi alla registrazione e l'accompagnamento verso i luoghi di destinazione che sono le sottorecettive e quello che si metterà a disposizione. Di fianco qui al campo abbiamo il palasport che sarà il primo luogo di accoglienza cioè quello che servirà a rifocillare, a offrire quel minimo di ospitalità e di comfort che servirà agli eventuali soggetti che perverranno dalle zone terremotate. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Oggi è un momento di briefing, di verifica di tutto quello che abbiamo nelle nostre facoltà e ci stiamo poi studiando un po' tutte quelle che sono le incognite e le eventuali necessità di rafforzare e di organizzare al meglio questo presidio. Oggi rientriamo all'interno dell'esercitazione Fregreive 2024. Il comune di Castellisangro è gemellato con il comune di Monte di Procida quindi dovrà procedere ad accogliere i cittadini che eventualmente l'eruzione dei campi Fregreive dovesse avvenire. Quindi ci siamo attivati per l'organizzazione del punto di accoglienza ci sono le organizzazioni di volontariato, protezione civile Alto Sangro, Pivec, Ana Castellisangro, Croce Rossa Italiana e Comitato di Sulmona. Quindi tutta l'organizzazione a partire appunto dal comune e dall'associazione di volontariato si è messa in modo per accogliere i cittadini di Monte di Procida. In sostanza è una simulazione? Oggi simuliamo quello che potrebbe accadere e quindi si mette in atto quelle che sono le procedure in coordinamento con la regione Abruzzo e quindi l'Agenzia regionale di protezione civile comune di Castellisangro e comune di Monte di Procida.